Roberto Miceli, secondo alla Coppa degli Assi, quindi uno dei risultati migliori ottenuti quest'anno? Finora è il miglior risultato che ci sia mai stato da quando c'è stata la Coppa degli Assi. È stato nel 2004 questo risultato fatto e devo dire che finora nessun siciliano si è riuscito mai a eguagliare tale risultato, quindi mi ritengo molto fortunato per quello che sono riuscito a fare con un gran cavallo. Per riuscire a conseguire un risultato di questo genere, che tipo di lavoro c'è stato alle spalle? Il lavoro è durato parecchi anni perché il cavallo io lo comprei nel 2000 e dopo 4 anni sono riuscito a ottenere dei grandissimi risultati. È stato un dispendio economico notevole perché ho dovuto girare parecchi concorsi a livello internazionale, soprattutto nel Nord Italia, quindi spostarsi dalla Sicilia nel Nord Italia è stato un grande dispendio economico, però alla fine ne è valsa la pena perché è un risultato che resterà, per me è il risultato migliore della mia carriera, quindi come tale non riuscirò mai a fare risultati come quello lì.